Per assimilare intesa e schemi tattici, quante sono state importanti queste due partite di Coppa? Sicuramente sono state fondamentali più che importanti perché è un gruppo nuovo fondamentalmente, ragazze si è vero giocano da tanti anni ma insieme mai, quindi ci voleva un bel rodaggio, ci volevano partite comunque importanti, lo sono state, quindi è servito per rodare e per amalgamare un po' la squadra. Il lavoro ancora ce n'è tanto, però si stanno vedendo i frutti, quindi la strada è giusta. Immagino che è stato importante il match con la San Giovannese, dove sono arrivate anche indicazioni che si aspettavano. Assolutamente, rispetto anche alla prima partita di Coppa si sono viste cose anche migliori, si è visto più intesa, abbiamo visto che la preparazione sta dando i suoi frutti perché le gambe non sono più così tanto pesanti, abbiamo anche capito che ogni partita sarà una battaglia e ogni avversario viene con il coltello fra i denti, quindi ci ha dato molti spunti su cui lavorare. L'avversario di domenica, come si le aspetta? Quali devono essere gli accorgimenti in campo? Sicuramente è un avversario molto temibile, forse uno dei pretendenti alla vittoria al campionato, conosco anche l'allenatrice, quindi so che avrà curato ogni minimo dettaglio, ci sono ragazze giocatrici di livello, quindi secondo me la partita sarà decisa da episodi e vincerà chi avrà più fame sicuramente alla prima partita e chi saprà sfruttare meglio le occasioni che vengono lasciate. Grazie. Prego a voi.